6 condanne per complessivi 44 anni e 11 mesi di reclusione con pene oscillanti dai 5 agli oltre 9 anni sono state inflitte dal GUP Alessandro De Magistris del Tribunale di Milano nel processo abbreviato a 6 pugliesi provenienti dal Gargano ma anche da San Ferdinando Canosa e Barletta e accusati di un assalto milionario vicino a Milano nell'ottobre del 2016 a due furgoni blindati che trasportavano gioielli bulgari per un valore di 4 milioni. Il blitz con 7 arresti della polizia ci fu a gennaio nel 2019. La scelta difensiva di giudizio abbreviato ha comportato lo sconto di un terzo della pena. Il PM milanese aveva chiesto infatti la condanna dei 7 imputati a 8 anni e 8 mesi a testa. La difesa ha pronunciato comunque appello contro il verdetto di primo grado. La pena più alta, 9 anni e 2 mesi, è stata inflitta al mattinatese Antonio Quitadamo, 44 anni, 8 anni e 4 mesi, la pena per il compaisano Francesco Scirpoli di 38 anni, inflitti 8 anni e 2 mesi al Manfredoniano Catello Lista di 43 anni, condanna a 7 anni e 4 mesi poi per Francesco Maveglia, 43 anni di San Ferdinando di Puglia, 6 anni e 10 mesi al canosino Raffaele D'Assisti di 30 anni e 5 anni e un mese sono stati inflitti al barlettano Carmine Valerio di 42 anni. Il blitz della polizia scattò il 23 gennaio del 2019 con l'esecuzione di 7 ordinanze cautelari. Le accuse contestate vanno da rapina aggravata e porto illegale di armi sino a ricettazione e riciclaggio delle auto usate per il colpo milionario. L'assalto avvenne il 15 ottobre del 2016 a Bollate, in provincia di Milano, in via Lacava sulla rampa d'accesso della strada provinciale Monzarò. Due furgoni dell'Istituto Portavalori Ferrari, che erano da poco usciti dalla sede della società Battistolli, erano stati bloccati da un comando composto da una mezza dozzina di banditi avvolto coperto ed armati, che agirono con tre auto. L'attenzione della banda si soffermò su uno dei due portavalori. Fu utilizzato un flessibile per creare un'apertura nel blindato e trafugare i plichi contenenti gioielli bulgari per un ingente valore. I banditi abbandonarono sul luogo dell'assalto una delle auto e fuggirono con gli altri due. Dopo oltre due anni di indagini arrivò la svolta con l'emissione delle sette ordinanze cautelari nel gennaio scorso. Sei imputati hanno poi optato per il giudizio abbreviato. Quittadamo e Scirpoli, entrambi di mattinata, sono ritenuti affiliati ai Romito di Manfredonia, uno dei clan della mafia garganica in affari, questa volta con la mafia cerignolana e quella ofantina della Bat.